Un nubifragio mai visto, la città allagata e colpita da frane, i torrenti che esondano e almeno sette morti. Sono questi, per il momento, i numeri della tragedia causata dall'ondata di maltempo che si è abbattuta su Livorno. La situazione è drammatica, siamo in piena emergenza, abbiamo chiesto e ottenuto lo stato di calamità. Livorno è stata colpita da un'onda di piena che ha colpito nella notte molte famiglie. La città è stata letteralmente devastata, ha detto il sindaco Filippo Nogarin. Ci sono grosse difficoltà, sono esondati alcuni corsi d'acqua. Una situazione del genere non era prevedibile in alcun modo, noi avevamo uno stato di emergenza arancione, quello rosso era previsto in Liguria, quindi non era in nessun modo immaginabile che potesse verificarsi una catastrofe simile, spiega il primo cittadino che ha partecipato alla riunione convocata dalla prefettura al centro coordinamento soccorso. È presto per fare un bilancio sul numero delle vittime, ha aggiunto, cinque sono quelle accertate, ma il numero purtroppo è destinato a salire. Punto i vigili del fuoco e la protezione civile hanno comunicato che fino a questo momento le vittime del nubifragio sono sette. Un corpo era in via della Fontanella nella zona di Monterotondo-Montenero, un altro, quello di un uomo di 64 anni, era in via Santalò, mentre un terzo sarebbe stato coinvolto in un incidente stradale. Sono quattro, invece, i cadaveri trovati in un appartamento seminterrato di via Nazzario Sauro, fanno parte tutti della stessa famiglia. Padre, madre, un bambino di quattro anni ed il nonno sono rimasti intrappolati a causa del fango. Secondo le prime informazioni, il nonno sarebbe riuscito a mettere in salvo una nipotina e sarebbe tornato indietro per cercare di salvare anche il piccolo. Una persona risulta ancora dispersa. L'intera città è completamente allagata dai 400 mm di pioggia caduti in poco più di quattro ore, 250 mm solo tra due e le quattro della notte. Punto si segnalano gravissimi danni e specie nella zona sud, con scantinati e strade invase dall'acqua e auto spazzate via. Punto la situazione più critica nei quartieri di Collinaia e Ardenza e Montenero, per l'esondazione di alcuni dei torrenti cittadini e il fango che ha invaso gli scantinati delle case. Gli abitanti del quartiere di Salviano sono stati sfollati, mentre a Quercianella nella zona della stazione si è registrata una frana che ha interessato l'Aurelia. A Livorno l'emergenza maltempo non è finita. Sono esondati alcuni torrenti, altri sono sorvegliati dalla protezione civile, ha spiegato su Twitter lo stesso sindaco Nogarin. Livorno è stata devastata dal maltempo come mai prima d'ora, ha aggiunto in un altro tweet e punto abbiamo chiesto lo stato di calamità. Cancelletto Livorno è stata devastata dal cancelletto maltempo come mai prima d'ora, Filippo Nogarin Chiocciola Nogarin, 10 settembre 2017 Il servizio urbano dei bus è stato interrotto per le condizioni della viabilità, sarà ripristinato a seconda del miglioramento della condizione di sicurezza. Punto anche i comuni limitrofi di stagno e colle Salvetti sono finiti sott'acqua con enormi disagi per la circolazione. All'altezza di Vicarello, spiegano i vigili del fuoco, è stata chiusa la superstrada Firenze-Pisa-Livorno per allagamento. La stazione dei treni è inagibile dalle tre della notte scorsa perché allagate la linea ferroviaria tirrenica interrotta tra Pisa e Campiglia. I treni a lunga percorrenza sono deviati via a Firenze-Pisa, spiegarfi. Le squadre tecniche di rete ferroviaria italiana stanno lavorando per ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione ferroviaria. In questi minuti stanno arrivando in città 100 uomini della protezione civile regionale, e non solo. I vigili del fuoco in queste ore hanno ricevuto oltre 200 richieste di intervento e una colonna mobile della protezione civile nazionale a in arrivo al Modigliani Forum per il supporto tecnico necessario.Punto proprio al Modigliani Forum, ha detto il sindaco, stiamo allestendo una segreteria per la registrazione dei volontari. Situazione critica a causa del maltempo anche a Pisa e nei comuni della provincia. Alberi caduti e strade allagati nella zona di Marina di Pisa, dove per ora non ci sono persone coinvolte. Le forti precipitazioni si sono poi concentrate nella città della torre dove tutti i sottopassi sono stati chiusi e buona parte di questi bloccati con auto rimaste in panne. Intorno alle sei i vigili del fuoco di Cascina sono intervenuti a San Giorgio per soccorrere quattro ragazze che erano rimasti in panne nel sottopasso allagato rifugiandosi sul tetto dell'auto.Un nubifragio mai visto, la città allagata è colpita da frane, i torrenti che esondano e almeno sette morti. Sono questi, per il momento, i numeri della tragedia causata dall'ondata di maltempo che si è abbattuta su Livorno. La situazione è drammatica, siamo in piena emergenza, abbiamo chiesto e ottenuto lo stato di calamità. Livorno è stata colpita da un'onda di piena che ha colpito nella notte molte famiglie. La città è La città è